Ultime notizie, cari tifosi rossoneri. Sapete che qui, nel nostro canale di notizie sul Milan, siamo sempre alla ricerca delle informazioni più calde ed esclusive sul nostro amato club. E oggi non poteva essere diversamente. Non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessun aggiornamento. Ora passiamo alle notizie del giorno. Il Milan si trova in una posizione difficile per quanto riguarda il futuro di Fodeballo con due club che mostrano un interesse particolare. Come riporta il collega di SempreMilan.it Luca Maninetti, Fulham e Bologna sono le due squadre più concretamente interessate al terzino senegalese, ma si tratta di fasi opposte. Il Fulham ha un accordo con il Milan per la cifra del trasferimento ma non ha ancora definito un accordo personale, con il giocatore, mentre il Bologna ha un accordo con il giocatore ma non con i rossoneri. Il club di Serie A cerca un accordo per il prestito, mentre il Milan vuole vendere a titolo definitivo per pochi milioni, e c'è l'ulteriore complicazione che Balloture vuole rimanere in Italia. Il capo scout Jeffrey Moncada è rimasto in Italia e non ha partecipato al precampionato negli Stati Uniti, come il difensore, quindi sta lavorando per trovare una soluzione. Ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi appassionati? Sulla possibile uscita di Fodeballoture? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Ricordatevi di lasciare un like se vi è piaciuta la notizia e di iscrivervi al canale per non perdere nessun. Aggiornamento sul Milan Continuate a sostenerci, perché insieme, verso il successo. Forza Milano!